Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi voglio presentare la nuova edizione del gioco di carte non collezionabile LCG, Il Signore degli Anelli, a cura ed edizione italiana di Asmod Italia, che io come sempre ringrazio di cuore e immensamente sono onorato di questa collaborazione, che ormai va avanti da un paio di anni. Arriva e ritorna sugli scaffali dei nostri negozi un gioco bellissimo di carte, cooperativo, che ha fatto veramente la felicità di molti fan di Tolkien, ma anche di tutti gli amanti del fantasy e soprattutto dei giochi di carte, in questa nuova versione che aggiunge delle cose veramente molto interessanti. Ve ne parlo a breve, dopo la sigla. Il Signore degli Anelli, il gioco di carte, gioco della Fantasy Flight Games, edizione italiana a cura di Asmod Italia, è un gioco cooperativo, non competitivo, da 1 a 4 giocatori, dove andremo a vestire i panni, non soltanto della Compagnia dell'Anello, perché sarebbe stato, secondo me, oltremodo e particolarmente limitante, ma di un gruppo di avventurieri, che tra l'altro alcuni, tipo Beravor e cose del genere, sono presi direttamente da un altro gioco, dalla Fantasy Flight bellissimo, che adoro, che è Viaggi nella Terra di mezzo, e ciascun giocatore sarà chiamato ad usare fino a tre eroi di questi che ci sono nel mezzo, tra cui anche personaggi famosi, come ad esempio Aragorn e quant'altro. E è veramente molto interessante perché è un gioco di avventura, un gioco cooperativo, dove dovrete vivere una storia, ma è un gioco interamente di carte, quindi a parte la plancettina dell'oscurità, non c'è nient'altra componentistica 3D, tipo miniature o cose del genere. Per un gioco così vi consiglio, magari, se cercate un gioco prettamente di miniature, o con una narrazione via app, telefonino, scaricabile direttamente dall'App Store anche per PC, per quello vi conviene magari di più Viaggi nella Terra di mezzo, ma questo è incentrato sulle carte, un po' come abbiamo visto l'LCG Arkham Horror, un altro titolo famosissimo che adoro, ed è veramente molto interessante perché è diviso in campagne, è diviso in espansioni, e questi LCG sono giochi di carte non collezionabili. Cosa vuol dire? Non è il classico gioco di carte a bustina, tipo le vecchie Mutant Chronicles o le Magic, dove bisogna comprare pacchetti, scambiare le carte, c'è un mercato tra queste cose, no. Qui compi la scatola e tutto quello di cui bisogno c'è dentro. Poi escono le espansioni che sono facoltative, puoi giocare anche sempre con questa, ma perlomeno essendo un gioco puramente narrativo ti portano avanti la storia, perché qui si inizia più che altro con boss 4 e posti del genere. Se volete andare a visitare magari le miniere di Moria, la foresta di Loren e cose del genere, per quello dovrete magari aspettare direttamente i pacchetti espansioni che usciranno. In questo gioco, a differenza della vecchia edizione, ed è totalmente, totalmente giocabile, se avete anche la precedente, è la stessa. Quindi se avete anche le precedenti espansioni, non le dovete ricomprare tutti. Il diverso formato di questo è che nella scatola base vecchia c'erano i mazzi per due giocatori. Se volevi giocare in quattro, dovevi comprare un altro set base, praticamente. Qui no. Ci sono già i mazzi completi di partenza per quattro giocatori, quindi questa scatola si può già giocare in quattro, senza, come la precedente, doverne comprare due. Ed è veramente molto interessante, perché ci sono varie missioni che hanno ciascuna carta un lato A e un lato B, dove davanti c'è scritto di solito un po' di storia e il setup, e come setupare tutti quanti gli ambienti magari che andremo ad incontrare, dove ci andremo a muovere con i nostri eroi, e poi sull'altro lato c'è scritto invece una volta finita la missione, completato quello che dovete fare, e cosa succede dietro, il vero e proprio obiettivo. Ed è molto bello, perché andremo a visitare posti iconici della terra di mezzo, come ho detto ad esempio, boss 4 e non soltanto, e dovremo andare a fronteggiare, a combattere le insidie, che turno dopo turno, nelle varie sequenze che ci sono, andremo a rivelare. Per ciascun giocatore, di solito più il posto, almeno che non ci sia in evento attivo, verranno girate delle carte incontri, che potrebbero essere incontri soltanto del tipo di quell'ambiente, quindi magari a boss 4 potrebbero apparire dei ragni, da altre parti magari potrebbero apparire orchi e goblin, quindi non è per forza detto che apparirà un mostro casuale, ma un mostro di quella location. E quando andremo a pescare carte dal nostro mazzo e metterle in mano, queste carte non avremo un limite, ne potremo tenere anche i 10.000. E sono le carte che daranno la possanza ai nostri eroi, perché potrebbero essere carte equipaggiamento, carte attacco, carte incantesimo, ma la cosa bella è che potremmo utilizzarle soltanto se il nostro personaggio ha lo stesso simbolo riportato sulla carta. Ad esempio, un Gimli o un Legolas sono prettamente combattenti, quindi magari una staffa magica o qualcosa del genere, un incantesimo, non sarà tanto consono per loro, ci vorrà più un ascia a due mani, un arco o due spade. Quindi, se avete lo stesso simbolo sulla carta e lo stesso simbolo sul vostro personaggio, vuol dire che potete equipaggiare o usare quella carta da usare con quell'eroe. E i combattimenti sono semplicissimi. Si va a vedere la forza del mostro, di solito indicata in alta a sinistra, e la forza complessiva dei nostri personaggi. Se è un pari merito, non succede niente. Se la superiamo, il mostro è sconfitto e per ogni punto successivo di cui battiamo la sua forza, magari noi abbiamo una forza di 10 e il nemico ha una forza di 4, quindi lo battiamo di 6, il mostro muore e quei 6 aggiuntivi vanno messi sugli obiettivi dell'evento attualmente in campo, che magari potrebbe richiedere 3, 4, 5 punti di danno per essere superato. E andrete avanti nell'avventura. Sbloccata la carta, 1A passa 1B, poi magari si passa 2A e c'è scritto cosa dovete fare e 2B. Quindi sono tutte una carta dopo l'altra che vi guidano durante un'avventura. Rigiocabilità, ragazzi, ovviamente alta, però la storia è quella. Cioè, potete sì, una volta prendere una strada, una volta prendere un'altra, perché cambiano le strade, magari ci sono più sentieri bivi per arrivare e poi comunque a un finale comune. Però, poi, ovviamente, se volete andare avanti, potete giocarci anche una vita, però se volete andare avanti nella storia a affrontare altri mostri e altre location, dovete assolutamente prendere anche le espansioni. Io, ancora una volta, ringrazio Asmod Italia per questa copia fornita, gioco veramente eccellente. Se lo dovete iniziare a comprare, secondo me, consiglio d'amico, non vi faccio mai buttare un euro. Anche se ce l'avete di già, ricompratelo, perché hanno rivisto anche leggermente le regole, l'hanno un po' sannellite, ma la cosa più bella è che in questo set si gioca in 4. Non c'è bisogno più di comprarne 2, come era prima. Basta questo per giocare in 4 e poi magari tutti gli altri vedremo un po' il lavoro che faranno prossimamente. Io, come detto, ringrazio una volta Asmod Italia. Se lo volete acquistare, primo link in descrizione e in sovraimpressione dalla Gioco Libreria Semola al miglior prezzo sul mercato che vi ricordo essere il nostro negozio sponsor. Se lo trovate in lista, ma è finito, o proprio in lista, digitate signore degli anelli gioco di carte e non c'è, mandate una mail al supporto a Corrado, il proprietario della Gioco Libreria Semola e fateli presente che arrivate dal canale di Corridan. Lui, che sia finito o che non ci sia, farà il possibile per farvelo trovare. E vi ricordo, usate sempre lo sconto Corridan 7 per avere uno sconto del 7% e ultimamente, se avete visto qualche video fa, ci sono gli sconti sui board game fino al 75%. Quindi andate a dare un occhio direttamente sul sito perché nel caso questo gioco avesse già applicato lo sconto superiore al 7% non potrete usare il mio codice sconto, ovviamente. Consegne gratuite con spese superiore ai 79€ in tutta Europa in 48 ore, quindi anche fuori dall'Italia. Ed è un servizio eccellente. Fatemi sapere cosa ne pensate e ragazzi, se adorate il fantasy e la terra di mezzo non ve lo lasciate scappare. Ciao ragazzi, alla prossima!